parte raffica di cantieri fra stazione e via dell'acquedotto lavori al cavalca ferrovia da domani cambia la viabilità si trasforma la piazza delle cascone di valentino rossi 30 bici rubati ecco come riconoscere la propria birrifici marchigiani uniti sulle strade della birra buona serata a tutti voi amiche e amici di rossini tv ben ritrovati al nostro spazio informativo della sera rossini news in questo telegiornale di mercoledì 19 di aprile che apriamo occupandoci di una conferenza stampa tenutasi questa mattina in comune di pesaro convocata dal sindaco matteurice da parte della giunta comunale per illustrare l'importante quantità di lavori che da questo aprile in poi si congestionerà nelle triangolo ravvicinato compreso tra il cavalca ferrovia la stazione ferroviaria e via dell'acquedotto il tutto per una dozzina di lavori che metterà a terra circa 20 milioni di euro di investimenti la fase centrale del 2023 rende pesaro sempre più città cantiere in particolare ruspe e ponteggi diventeranno dominanti nel triangolo di poche centinaia di metri compresi fra il cavalca ferrovia la stazione ferroviaria e via dell'acquedotto per una serie di cantieri ravvicinati e concomitanti che il comune di pesaro ha voluto annunciare oggi avvertendo la cittadinanza anche per gli inevitabili disagi alla viabilità 20 milioni di lavori che partiranno nei prossimi giorni nelle prossime settimane tutti concentrati intorno all'area tra la stazione e il cavalca ferrovia in particolar modo la nuova stazione la riqualificazione della stazione esistente 8 milioni di euro la rifacimento del cavalca ferrovia 3 milioni di euro il sottopasso dei cappuccini altri 800 mila euro e poi il ponte ciclo pedonale che collegherà tombaccia con la stazione via dell'acquedotto tanti lavori in quella zona sia di parcheggi sia di strutture sociali quindi davvero un investimento molto importante ovviamente quando iniziano i lavori ci sono anche dei disagi chiediamo pazienza ai cittadini 20 milioni di euro la stragrande maggioranza dei quali di provenienza extracomunale il finanziamento più consistente sono gli 8 milioni di rfi destinati alla riqualificazione della stazione ferroviaria che partirà fra fine maggio e inizio giugno sempre con fondi rfi si procederà all'acquisto e realizzazione del nuovo bike hub per 800 mila euro e 600 mila per l'acquisto dell'area ex metro park un altro milione di euro di fondi comunali andrà alla riqualificazione del parcheggio a sud della stazione 140 mila euro sono destinati alla realizzazione del deposito biciclette che partirà a giugno mentre nella stessa area a inizio 2024 si realizzerà la stazione di posta housing sociale con 900 mila euro di fondi pnr spostandosi in via dell'acquedotto fra maggio e giugno arriverà il varo del ponte ciclopedonale sul foglia per un lavoro da 3 milioni e 800 mila euro ai quali si affiancano 320 mila euro per la riqualificazione del teatro della piccola ribalta lavori che partiranno e lavori che sono già quotidianità di questa settimana è infatti partita la complessa demolizione e riqualificazione del sottopasso dei cappuccini che si concluderà a marzo riparti invece domani l'ultimo straccio di lavori al cavalca ferrovia de sabbata partirà proprio domani un cantiere da 3 milioni di euro che in qualche modo andrà a portare anche qualche modifica sulle viabilità così come è stato così come è stato annunciato e che però diciamo non andrà mai a modificare quelle che sono la percorribilità di quel tratto di strada in entrambi i sensi di marcia una dozzina di cantieri con un occhio a pesaro capitale della cultura 2024 abbiamo chiesto nella gestione dei cantieri qualità nella nelle impalcature nella cartellonistica abbiamo chiesto anche di apporre laddove possibile il brand della capitale della cultura perché è anche un modo per dimostrare che la capitale della cultura sta dentro questa trasformazione che pesaro sta vendo e che nelle prossime settimane nei prossimi mesi sarà sempre più evidente e come avete visto in questo servizio tanti lavori e inevitabile anche qualche disagio come quelli delle modifiche alla viabilità che cominceranno già da domani perché proprio domani parte il primo dei cantieri citati quello sul cavalca ferrovia e ci saranno modifiche alla viabilità per quello che riguarda il raggiungimento dell'area limitrofa alla chiesa dei cappuccini modifiche che dureranno circa due mesi e che ci vengono illustrate dall'assessore all'operatività enzo belloni piccoli disagi a fronte insomma di grandi interventi no che finalmente riusciamo a mettere in campo e l'intervento più che parte adesso già da già da domani è il lavoro sul cavalca ferrovia e il tratto interessato è quello che va tra via fratelli bandiera e l'oratorio della chiesa dei cappuccini è un lavoro che va a step e questo primo cantiere in qualche modo comporta un cambiamento sostanziale della viabilità in primis via fratelli bandiera subirà un'inversione di marcia quindi si andrà da diciamo dal via montegrappa a scendere verso via rosolino pilo mentre prima era il contrario e mentre su via cardinal massaia che è la via che ci permette di accedere la chiesa dei cappuccini ea tutta l'area di sosta a disposizione della città quindi porta capucina e il parcheggio della stazione ferroviaria subirà anche questo un'inversione di marcia quindi permetterà al alla chiesa di di avere insomma i fedeli che potranno accedere in maniera tranquilla a tutto quello che sono le attività della parrocchia e permetterà ai pesaresi che hanno bisogno di cercare un posto auto gratuito a ridosso del centro di arrivare ai due parcheggi scambiatori poi per uscire si andrà in direzione via solferino e poi per chi andrà per chi vuole tornare in centro farà la rotatoria di via solferino e tornerà sulle sul cavalca ferrovia una criticità l'avremo con i tanti ciclisti che arrivano insomma dalla zona di villa fastigi di villa san martino da pantano che scendendo verso il centro e verso il mare e troveranno il sottopasso dei dei cappuccini interdetto e li andremo a creare su via cardinal massai una corsia doppio senso di marcia per le biciclette e questo comporterà la perdita di alcuni posti auto però li recuperiamo insomma sostanzialmente con le due aree su con i due parcheggi scambiatori che ci sono a ridosso della stazione è un disagio che durerà qualche mese poi step by step noi dovremmo andare avanti con tante altre modifiche alla viabilità che che creeranno all'inizio come sempre un po di confusione però il risultato che avremo sarà un risultato eccellente cantieri che non riguardano solo l'area appena citata nei servizi che avete visto ci sono interventi importanti in corso anche nella zona mare in particolare in quella di levante dove entrata nel vivo la radicale riqualificazione di piazzale d'annunzio il cascone di valentino rossi ancora al suo posto tutto il resto è in fase di trasformazione in piazzale d'annunzio dopo la prima settimana di lavori finalizzati a tramutare quello che fino a due anni fa era poco più di un incrocio in una piazza del lungomare di levante a tutti gli effetti prima settimana di tre mesi di lavori col primo che quello più impattante con interruzione della viabilità in quest'area che si protrarrà fino al 12 di maggio il cantiere varcherà anche la prima parte d'estate con le attività della zona chiamata ad un sacrificio sull'altare di un prodotto finale che renderà l'area ben più attrattiva una volta accantonate le ruspe si tratta di un intervento che risponde ad una precisa richiesta degli albergatori e che mette a terra 500 mila euro del comune di pesero rivoluzionando la zona con una piazza centrale vera e propria un'arena per spettacoli tante panchine e un cambiamento radicale sulla bicipolitana il tutto in un contesto molto più green con tante nuove piantumazioni il casco di valentino rossi rimane oggi come ultimo baluardo dell'area ma sarà spostato una volta che alla sua base si interverrà per realizzare una piscina con acqua sfioro che in qualche modo costruirà un'analogia con la sfera di pomodoro poco distante in molti casi in questi giorni siamo ancora con i riscaldamenti accesi eppure proprio oggi la regione Marche ha annunciato la data ufficiale di partenza della stagione balneare appunto nella nostra regione si comincia fra dieci giorni il prossimo 29 aprile e da quel giorno e fino al prossimo 17 settembre agli stabilimenti balneari marchigiani sarà concesso di aprire le proprie spiagge allestendole con ombrelloni e lettini da affittare e cambiamo argomento le immagini che vi stiamo per mostrare documentano la trentina di biciclette ma anche di monopattini elettrici rubati dei quali vi abbiamo dato notizia nel telegiornale di ieri le immagini in questione sono consultabili anche attraverso la pagina facebook della questura di forlì che insieme a quella di pesaro ha coordinato l'operazione di recupero di questa merce rubata e sta divulgando queste immagini per aiutare i proprietari a recuperare appunto i propri mezzi si tratta di furti avvenuti in garage con merce ritrovate in alcuni immobili di fano di gradara e di forlì riconducibile ad un trentenne pregiudicato di origine albanese che si spacciava per finto medico all'ospedale di cesena mettendo in vendita online la suddetta merce rubata il presidente dell'unione pian del bruscolo palmiro ucchielli comunica che entro la fine del 2023 l'attuale nido di pian del bruscolo sarà ampliato con ulteriori 60 posti che aggiunte ai 122 autorizzati porteranno la struttura a 180 posti complessivi la costruzione di altre tre aule in legno antisismiche e antincendio ribadisce l'opportunità che il nido vuole offrire di erogare il servizio dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30 per tutto l'anno escluso il mese di agosto immagini ora dalla palestra carducci di pesaro che da ieri è stata nominata la madre di tutte le palestre di pesaro dal 1910 l'assessore allo sport mila della dora infatti è sfilato ieri il drappo della targa fissa nell'edificio di via 11 febbraio in compagnia di due pesaresi che hanno fatto la storia dello sport cittadino come agostino ercolessi e franco bertini che nell'occasione hanno sottolineato l'omaggio di una palestra ricca di storia che continua quotidianamente ad ospitare eventi studenti e giocatori professionisti e amatoriali chi spostiamo a fano dove saranno oltre 200 gli ospiti dell'undicesima edizione di passaggi festival in programma proprio a fano dal 21 al 25 giugno 2023 a ricevere il premio passaggi sarà lo storico franco cardini uno degli intellettuali europei più apprezzati che presenterà il saggio le vie del sapere l'altro riconoscimento del festival il premio giornalistico andrea barbato sarà assegnato alla giornalista lucia annunziata che porterà a fano il suo ultimo libro l'inquilino da monti a meloni indagine sulla crisi del sistema politico pesaro città plastic free organizza per domenica 23 aprile è un importante momento di raccolta della plastica nel parco miralfiore come ci ricordano anche gli assessori francesca franquellucci ed enzo belloni il 23 di aprile ci vediamo al parco miralfiore plastic free il primo evento che lanciamo a pesaro dove faremo la raccolta della plastica faremo un giro una passeggiata ecologica in collaborazione con marche multi servizi che ci fornirà il materiale sarà una bellissima mattinata e che contribuirà a valorizzare il nostro parco cittadino 23 ettari di verde a un chilometro e mezzo dal mare ci vediamo domenica il parco ciao 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 nelle marche ci sono oltre 40 birrifici artigianali molti dei quali localizzati proprio nella provincia di pesaro e urbino realtà agricole e produttive di eccellenza che ora si uniscono in un progetto promozionale condiviso dal titolo sulle strade della birra nelle marche esistono più di 40 birrifici fra agricoli ed artigianali in quella che la quinta regione in italia per produzione di orzo destinata ad oltre 300 tipi di birre la regione si è anche dotata di una legge apposita di promozione e valorizzazione della birra avvalendosi dell'associazione nazionale città della birra quest'ultima nata nel 2015 è presieduta dal sindaco di apecchio vittorio nicolucci ed è parte integrante del nuovo progetto strade della birra presentato dalla regione marche unendo in un unico percorso luoghi simbolo di questa produzione d'eccellenza che oltre ad apecchio annovera in provincia di pesaro urbino anche sasso corvaro monte cerignone la stessa pesaro e fano fermignano coglie al metauro monte porzio cantiano serra santabondio e san lorenzo in campo oggi abbiamo presentato il progetto strade della birra della regione marche che avevamo già in qualche modo realizzato in una prima fase primordiana nel 2018 grazie a un contributo da regione marche oggi appunto presentiamo la seconda versione quella definitiva del progetto strade della birra della regione marche che è un contenitore che vuole valorizzare partendo appunto il territorio dai birrifici artigianali per poi creare una filiera mettendo insieme anche le imprese quindi non solo birrifici ma anche strutture ricettive ristoranti agriturismi anche tutta la parte culturale per poter permettere ai turisti che vengono delle marche di poter avere un ampio raggio e un ampio spettro di opportunità da vivere nei 21 comuni che fanno parte della rete perché la rete è composta appunto da 21 comuni e si configura come una delle reti più grandi e più importanti di comuni delle marche la regione marche attraverso una legge specifica nel 2020 ha voluto creare le condizioni normative proprio per la valorizzazione della birra di produzione agricola artigianale qui nelle marche è una realtà presente con oltre 40 aziende e allora far conoscere anche i luoghi dove nascono e crescono queste aziende farli anche avvicinare ai luoghi proprio di produzione laddove esistono appunto proprio birre birrifici che agricoli ecco rappresenta un modo importante per far conoscere il territorio il passaporto della birra artigianale della regione marche è un'idea che naturalmente molto originale che naturalmente ci è venuta per permettere ai turisti di avere comunque un vantaggio in termini economici per coloro che decideranno di visitare la rete dei 21 comuni quindi il turista tramite il nuovo sito che vedete le mie spalle che è www.stradellabirra.it si potranno iscrivere al sito potranno scaricare il passaporto che è possibile utilizzare sia una versione cartacea una versione digitale e potranno avere dei vantaggi nelle strutture che sono convenzionate che sono presenti all'interno del sito basta presentare il passaporto che contiene un QR code l'esercente scansione QR code e si attiva automaticamente lo sconto e concludiamo il nostro telegiornale occupandoci di cinema in un attimo tutto può cambiare e questo il titolo del cortometraggio girato nella provincia di peterurbino e che è stato selezionato fra 400 opere per il prestigioso festival della cinematografia sociale targato rai tulipani di seta nera la regista rita giancole alcuni componenti del cast sono venuti a trovarci negli studi di rossini tv per parlare di questo progetto in un attimo tutto può cambiare è un film da me scritto e diretto che partecipa al festival rai i tulipani di seta nera è un festival che si occupa di cinematografia sociale noi siamo stati felicissimi quando ci hanno comunicato che siamo stati selezionati su 400 opere a livello internazionale questo film parla di davide un giovane che rimane disabile in seguito un incidente davide interpretato da grande ivan cottini a fianco a lui abbiamo altri importanti attori come melissa mille giovanni libro giancarlo guastalla manrico caldari e antonella splendore io interpreto alex una figura enigmatica all'interno di questa storia che sarà fondamentale per il cambiamento di davide questa è stata la mia prima esperienza cinematografica anche se in realtà calco il palcoscenico come attore da quando avevo sei anni e da 16 anni sono ballerino e coreografo tra le varie esperienze una che porto nel cuore è quella di aiuto coreografo durante i concerti di vasco rossi nel cortometraggio io interpreto il personaggio di giada la fidanzata storica di davide amo il mondo dell'arte infatti ho iniziato a studiare danza da piccolissima e poi in seguito recitazione e canto ho iniziato come figurazione speciale per i film di pupia vati e poi in seguito mi sono appassionata tantissimo alla recitazione ho preso parte poi a delle produzioni cinematografiche anche internazionali e l'ultima è questo bellissimo cortometraggio con ivan cottini oltre al cast degli attori che vi ho già presentato in questo film hanno lavorato amato ballante che ha curato le foto di scena il backstage video e poi abbiamo andrea furlani che ha curato la fotografia e il montaggio e chiara volpi che ha creato la bellissima locandina al mio fianco abbiamo lorenzo rotella lorenzo è un giovane cantautore che ho conosciuto diversi anni fa e con lui abbiamo aperto anche una scuola di recitazione doppiaggio a roma e ho avuto la fortuna di averlo anche come compositore nel cortometraggio in un attimo tutto può cambiare è stato veramente emozionante poter lavorare alle musiche per questo cortometraggio poter stare sul set insieme agli attori e vivere l'esperienza appunto del dietro le quinte e ho sempre composto musica fin da quando ero piccolo insieme al maestro fabrizio palma di amici ma ho sempre composto canzoni e singoli in questo caso è stato bellissimo poter tradurre le immagini in musica sono tanto felice della mia prima volta da attore e devo ringraziare tutta la squadra la regia di rita giancola che ha costruito questo cortometraggio in base alle mie esigenze e infatti ritagliavamo gli spazi tra le mie terapie e i ricoveri in ospedale e la maggior parte delle scene sono state girate qui dentro casa quindi incrociamo le dita e il 7 maggio si saprà se riceveremo qualche premio e incrociamo le dita insieme a Ivan Cottini e ringraziamo la redazione di Rossini tv che ci ha dato questa opportunità ringraziamo tutti i telespettatori e vi invitiamo a visualizzare il sito dei tulipani di seta nera e in questo sito troverete il nostro film in un attimo tutto può cambiare più visualizzazioni e più opportunità avremo di vincere il premio rai channel grazie e si conclude qui Rossini news ma sarà l'informazione a caratterizzare anche la prima serata di questa sera quando alle 21 e 20 vi proporremo la seconda puntata del nostro nuovo format amministrando che andrà ad approfondire alcune tematiche delle amministrazioni comunali provinciali in questo caso regionale lo faremo in compagnia del consigliere regionale di fratelli d'italia nicola baiocchi appuntamento alle 21 e 20 così come ogni mercoledì e poi le tante repliche che vedete in grafica dal giovedì al lunedì informazione che su Rossini tv torna puntuale domattina in diretta alle 7 e 20 con buongiorno Rossini la nostra segna stampa che vi tiene compagnia come sempre dal lunedì al sabato con il primo sguardo sulle notizie del nostro territorio offerte dai quotidiani locali e facciamo un passo avanti anche a domani sera la serata di giovedì come sempre caratterizzata da insieme a canestro il focus sulla carpegna prosciutto basket pesero focus settimanale sempre rigorosamente in diretta con il nostro marco cadeddu che nel suo salotto avrà l'ex giocatore amos benevelli ex giocatore della vl amos benevelli come ospite in compagnia dell'opinionista marco bedinotti e poi come sempre vi ricordiamo la possibilità di interazione in diretta con domande agli ospiti in studio attraverso il numero whatsapp dedicato 370-366-7210 insieme a canestro appuntamento domani alle 21 e 20 e si conclude qui invece questa edizione di Rossini news da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi